La proposta è di quelle forti, in un certo senso rivoluzionarie, chiudere al traffico l'arteria commerciale più importante di Milano per almeno 24 domeniche in concomitanza con l'esposizione universale. A chiederlo è il consiglio di zona 3 che in ottemperanza al programma elettorale con cui il centro-sinistra ha vinto le elezioni amministrative del 2011, ha chiesto al sindaco Pisapia di vietare la circolazione automobilistica lungo corso Buenos Aires nei giorni festivi dal 1 maggio al 31 ottobre. Ma il mondo del commercio come ha preso tale notizia? C'è chi parla di attriti violenti e di polemiche al calor bianco tra commercianti e pubblica amministrazione. Una ricostruzione però molto lontana dalla realtà considerando le dichiarazioni dello storico esponente degli esercenti del corso che giudica favorevolmente i blocchi domenicali al traffico cittadino. Innanzitutto i negozianti non sono divisi, la maggioranza dei negozianti è favorevole. C'è qualcuno che dice che sono divisi, in effetti non è vero. Corso Buenos Aires che è la quarta arteria commerciale d'Europa, perciò stiamo parlando di una delle vie più importanti sicuramente dal punto di vista commerciale. Nel momento clou diciamo della Expo dove ci saranno questi 20 milioni, poi saranno 18, saranno 22, quello si vedrà. Che vuol dire qualche centinaia di migliaia di persone in più ogni giorno presenti a Milano di domenica. Teniamo presente che quelli che arriveranno a Milano sia che vengano dall'estero, sia che vengano da Napoli o da Firenze eccetera in più arriveranno senza automobili, arriveranno in aereo, in treno. Per cui il fatto di chiudere Corso Buenos Aires e fare in modo che la strada sia completamente a disposizione degli utenti che possono camminare tranquillamente senza il problema di vedere, di attraversare eccetera, con i loro passeggini, il cane, con quello che vogliono. È la cosa più bella che si possa fare. La conformazione di Corso Buenos Aires ricorda la tipologia americana, soprattutto la Fifth Avenue di New York. La strada si estende da Porta Venezia fino a Piazzale Loreto, considerando che Corso Buenos Aires è tra le strade commerciali più importanti di Milano. Con oltre 350 punti vendita di vari tipi di merce e un fatturato quotidiano complessivo tra i più alti al mondo, la limitazione al traffico domenicale potrebbe rivelarsi un vantaggio anziché un impedimento. Nel punto in cui noi ci troviamo c'è un passante verroviario a 20 metri, una fermata della metropolitana, Corso Buenos Aires fosse la strada più servita dal punto di vista dei mezzi pubblici. Abbiamo tre fermate della metropolitana, due metropolitane, abbiamo la verde e la rossa. Abbiamo qualcosa come quattro linee tramviarie, due autobus e due filobus. Ma cosa vogliamo di più? Allora che uno vada a casa con la portantina a portarselo qua. Ma non esiste.